Oggi prepariamo insieme la torta di mele in frigitrice ad aria. Vediamo come realizzare. Una terrina, uova, zucchero e pizzico di sale. Lavorate il tutto con uno sbattitore elettrico. Aggiungete la scorza grattugiata di un'arancia, burro morbido, yogurt e man mano aggiungiamo la farina setacciata per evitare la formazione dei grumi. Ed infine il lievito. Continuate a lavorare con le fruste e poi aggiungiamo un po' di cannella che non guasta. Per rendere ancora più ricca la mia torta ho aggiunto una mela grattugiata. Utilizzate una grattugia a fori larghi. Mescolate con un cucchiaio e adesso imburrate ed infarinate uno stampo e mettiamo tutto il nostro impasto. Livellate per bene e adesso aggiungete le mele a fette sopra la superficie. Ed infine completate con fiocchetti di burro in superficie e zucchero semolato. Adesso siamo pronti per la cottura. Io l'ho messa nel cestello della frigitrice ad aria. Facciamo cuocere a 160 gradi per i primi 20 minuti ed infine mettiamo 170 gradi per 5 minuti. Ovviamente si può cuocere anche al forno. Vi faccio vedere il risultato finale. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio e alla prossima.